Rinasce a Gela dopo 11 anni il Comitato Promotore dei Giovani Democratici. Nei locali di Piazza Martire della Libertà erano presenti il segretario provinciale Giovani Democratici Marco Andaloro e il responsabile nazionale Mezzogiorno Giovani Democratici Elisa Carbone. Finalmente torniamo a Gela dopo tanti anni per creare e costituire quello che sarà un comitato promotore che si occuperà di coinvolgere i giovani della città e di coinvolgere all'interno dei giovani democratici, ovvero l'associazione giovanile del Partito Democratico. Questo è stato possibile oggi grazie anche all'impegno del segretario cittadino Peppe Di Cristina e quindi siamo contenti veramente di ritornare oggi a Gela per questa importante occasione. Vogliamo che la giovanile torni a essere protagonista delle scelte del territorio nisseno e della città di Gela. È un bacino di utenza notevole e speriamo che si possano realizzare numerose iniziative e progetti per il bene di Gela e di tutta la provincia. Sono tanti i temi che prenderemo in considerazione come per esempio quelli che sono i problemi inerenti agli studenti universitari, ai giovani lavoratori e altri temi riguardanti la città che comunque la politica sembra essere lontana e continueremo con grande partecipazione. Riportiamo il comitato dei giovani democratici a Gela, fatto di giovani che vogliono guardare al futuro e guardare tutte le problematiche che Gela sta attraversando. Il futuro di noi giovani doveva essere un inizio per una svolta futura a cui dobbiamo tutti rimboccarci le maniche e andare avanti. Una giornata straordinaria ed una vittoria del Partito Democratico di Gela, la definita del segretario cittadino del PD, Peppe Di Cristina. Finalmente abbiamo concretizzato un progetto che c'era in città da tempo perché ritengo che i giovani siano fondamentali per poter affrontare determinate problematiche e soprattutto per guardare a quella parte della società gelese che deve essere attenzionata, i giovani e il lavoro per i giovani. Quindi ci muoveremo in questa direzione e faccio i miei auguri a questo neocostituito gruppo dei giovani democratici a Gela.